Dottor Toselli, la continuità operativa, lei ha detto che in realtà è in primis una questione di qualità del servizio offerto al cittadino, quindi in qualche modo un diritto. Di fatto è un diritto di cui spesso magari non ne abbiamo conoscenza ma se andiamo a vedere nei contratti che abbiamo con Telecom Center vi è la qualità del servizio che dobbiamo assicurare, che coincide esattamente con l'esigenza di ripristinare il più in fretta possibile, quindi business continuity e organizzazioni di crisis management per le grandi aziende, di ripristinare la funzionalità delle infrastrutture critiche. Ma se andiamo più al basso ognuno di noi ha il diritto che gli venga ripristinato nel più breve tempo possibile l'energia elettrica se manca, che gli venga restituito la funzionalità della linea telefonica, che gli venga aperta l'autostrada bloccata, che gli venga ripristinato il treno su cui siede da mezz'ora e che non funziona. Quindi questo è il diritto all'equalità della vita, al diritto a lavorare in maniera serena, potersi muovere, potersi parlare, poter avere tutti quei servizi che oggi ormai sono parte integrante della standard, della qualità di vita di una grande società. Lei ha parlato di un diritto, ma anche di una responsabilità, nel senso che ha fatto un esempio molto interessante che mi tocca tra l'altro personalmente da vicino, il terremoto in Emilia, l'uso dei social network dove quindi si è creata una rete di informazioni, certamente da filtrare, certamente da filtrare soprattutto sull'aspetto emotivo, ma che hanno aiutato la protezione civile. In che modo? Questo è un passo importante. I social network, oltre a collegamenti che consentono sul quotidiano su cose veramente anche banali o marginali, ma che servono comunque a fare socialità, soprattutto fa i giovani, lo vedo dal mio figlio, ma hanno cambiato totalmente il modo e la possibilità soprattutto di avere quasi in tempo reale la situazione in caso di calamità. Il caso del terremoto dell'Emilia è uno, ma anche in caso delle inondazioni. La funzionalità stessa dei social network, ancorché ovviamente funzionante sotto la spinta delle emozioni, delle criticità, dello stress, consentono con un adeguato filtro, con un'adeguata valutazione dell'esperienza da parte degli operatori della protezione civile, da chi siede in Sala Italia, di capire oggi, direi nell'arco di due ore, due ore e mezza, veramente qual è la portata di un evento, la gravità e l'estensione dello stesso. È veramente una rivoluzione tecnologica e sociale anche nella gestione dei grandi eventi.